Non si può affrontare la questione della scuola da un punto di vista punitivo. C'è un problema di contenuti, c'è un problema di risorse della scuola, di formazione dei docenti. Sicuramente è uno degli strumenti che può essere utilizzato, dato ai professori e alle famiglie, in maniera corretta può contribuire a educare i nostri giovani. Buonasera, ma allora questo ben detto 5 in condotta è un'opportunità di cui professori abbisognavano o è uno strumento di intralcio nei rapporti umani. Per anni la parola punizione, che peraltro vige in qualunque ambiente educativo, basta pensare al rapporto genitori e figli, e non parliamo di punizioni corporali, ben inteso, per anni questa parola punizione è stata demonizzata. È anche vero che la scuola, ci domandiamo, può ritrovare la dignità che molti considerano perduta grazie all'imposizione di una severità? Ne parliamo quest'oggi, sono qui con noi Patrizia Boretti. Buonasera signora, che è un'insegnante innanzitutto di latino e greco, distaccata come consulente del MIUR, Ministero di Istruzione, Università e Ricerca, dove lavora la direzione generale dello studente, e davanti a lei Beniamino Lami, segretario nazionale, buonasera, della Federazione Laboratori della Conoscenza della CGL. Si occupa soprattutto di politica per l'inserimento degli studenti stranieri nella scuola, dovrei chiedere qualcosa delle classi Ponte, facciamolo già che ci siamo, così proprio prima di cominciare, per scaldarci? Subito, sulle classi Ponte. No, proprio una battuta a caldo, senza pensare. A parte che ancora non è un provvedimento, ma diciamo il documento approvato in sede parlamentare non è una cosa che noi non condividiamo, no, lo riteniamo molto negativo. Nemmeno se periodizzato in maniera chiara come passaggio? Nemmeno se periodizzato, non si affronta così il problema dell'inserimento e dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni immigrati. Lei che ne pensa invece, signora? Allora, nel Ministero ci stiamo muovendo dopo un'attenta valutazione delle buone pratiche che sono già esistenti, quindi per il momento siamo solamente in fase di analisi delle pratiche già sperimentali. Ma lei cosa ne pensa? Io penso che sia una cosa positiva, perché permetterà ai bambini di superare quelle difficoltà linguistiche che effettivamente si riscontrano. Bene, una premessa utile, partiamo adesso col tema di oggi, quello che i nostri staglio e olio in qualche modo vogliono rievocare. Cinque incondotte naturalmente significa un ritorno di parole che sembravano ormai esulare dal mondo della scuola, tipo autorità, autorevolezza o comunque autorità che comunque ha anche la stessa radice. Cominciamo con l'opposizione, in questo caso, agli provvedimenti che vengono elaborati dei consulenti, anche del Ministero e quindi bene a meno là mi cominci lei. Il Cinque Condotta, che ne pensa? Allora, non è un provvedimento che accoglie e prende il nostro gradimento, perché c'è sicuramente un problema di autorevolezza, di riconoscimento di quello che la scuola fa e di quello che è il ruolo del docente in particolare. Poi nella scuola non ci sono solo i docenti, ma il docente è la figura centrale. Noi abbiamo un ambiente che sta diventando ostile nei confronti della scuola, la funzione sociale del docente non è riconosciuta e questo si riversa in termini negativi proprio nel rapporto educativo, nella relazione educativa che all'interno della scuola si svolge. Alcuni giorni fa, non molto tempo fa, anche oggi è stato pugnalato un insegnante da un allievo, tra l'altro un insegnante iscritto alla FLC. Allora non è quell'allievo che in realtà ha pugnalato l'insegnante. A parte che era un ragazzino, no? Sì, un ragazzino insomma, ma in realtà è la società nel suo complesso che è il mandante rispetto a questo atteggiamento qui. Il ragazzo ha detto lo dovevo fare, e perché lo doveva fare? Qual è il senso, il valore per cui quel ragazzo doveva fare quel gesto nei confronti dell'insegnante? Perché probabilmente l'insegnante ha avuto il difetto di dire, di correggerlo in qualche suo comportamento, quindi di fare l'educatore nei confronti del ragazzo. Evidentemente questo problema qui dell'autorevolezza dei docenti, quindi della scuola anche nel suo complesso, non è solo un problema che si può risolvere all'interno della scuola, è un problema di riconoscimento anche del ruolo sociale dell'insegnante e della scuola. Certo, questo riconoscimento non c'è, non mi pare che ci sia, basta vedere gli stipendi, basta vedere la considerazione complessiva di cui attualmente godono. Grazie. Patrizia Boretti, signora a lei. Allora, lei ha inucleato il problema e noi stiamo cercando come Ministero di dare delle soluzioni a questi problemi. Certo, il 5 in condotta, avulso da tutto il contesto di lavoro che è stato fatto intorno, può sembrare sanzionatorio, ma sicuramente non ha questa funzione. Si parte dal presupposto della scuola come comunità di educazione, come trasmissione non solo di conoscenze, ma anche di buoni comportamenti e anche di senso di cittadinanza e di appartenenza. Quindi, all'interno di altre variazioni normative, quali appunto sono state variazioni sullo statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di corresponsabilità con le famiglie, perché adesso si parla di una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, quindi di una riproposizione dei rapporti tra docenti e alunni, tra scuola e famiglia, entra anche questo 5 in condotta e questo 5 in condotta che viene dato in maniera ben precisa, solamente in maniera collegiale, quindi può essere una indicazione abbastanza precisa nel primo quadrimestre e può avere effetti sull'andamento del ragazzo e quindi sul percorso educativo solamente nel secondo quadrimestre, però può essere che anche un aiuto, cioè un'indicazione, un fermo a un giovane possa aiutarlo a ritrovare poi i veri valori, le vere finalità di quella che è l'educazione, perché talvolta i giovani si possono pure aiutare nel loro percorso di crescita e talvolta hanno bisogno anche di un adulto che gli dica oltre questo comportamento non puoi andare. Quindi, vista all'interno di un percorso ben preciso che parte dal statuto delle studentesse e gli studenti al patto di corresponsabilità delle famiglie, è valido anche questo procedimento del 5 in condotta. Possiamo dare voce adesso ad alcune domande degli studenti che abbiamo guardato qua e là sui siti online, ci sono fiumi, fiumi di domande, di reazioni e perché no dei genitori. Domande?